E' partita 3-2-1 via. Se tu si prova a segnare due gol nel primo incontro di play-off all'ultimo. Ma sai, ancora non me ne rendo conto. Comunque l'importante è che abbia vinto la squadra. A chi dedichi questo successo personale? A mister! Dedico questi due gol in modo particolare a tutti. Qual è stato il più difficile? Il primo gol è stato una gran botta di culo perché l'ho stoppata. Quando la palla mi è caduta sul destro. Il tuo piede preferito. Cosa faccio? Guarda Passoni con le quattro braccia davanti. Non ho fatto in tempo a rispondere che la gamba da sola ha calciato la palla. Il pallone avrebbe potuto finire in qualsiasi posto. Un applauso per a ti e per a sal!